Al via entro pochi giorni i lavori di manutenzione del canale Asso che attraversa Nardò. L'intervento è stato comunicato dal Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo e ha un costo di 223.000 euro come da bando. I tempi di realizzazione sono di circa tre mesi, per spurgo sistemazione del canale nei tratti di terra e roccia e pulizia e asporto del materiale che si è depositato. Un intervento finalizzato a ridurre i rischi idrogeologici in una zona che resta caratterizzata da terreni poco permeabili. Dall'amministrazione comunale di Nardò però fanno sapere che c'è la volontà di sottoscrivere un contratto di gestione del fiume con altre associazioni o enti interessati a un accordo ed è già stata inviata una nota a tal proposito alla Regione Puglia. E l'assessore all'ambiente, Mino Natalizio, spiega si tratta di azioni iniziative concrete nell'ambito del lavoro che sta svolgendo il tavolo tecnico per il coordinamento degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e ambientale del canale Asso, istituito qualche mese fa.